Buongiorno a tutti, grazie che siete qua. Il posto è magnifico, poi ci sono i bambini, i giochi, il prato e abbiamo qui questo meraviglioso programma di pianoforte con accompagnamento di violino e buon divertimento con questa musica. Stasera sarà un concerto di musica da camera. Io volevo anticipare che gli autori principali che suoneremo saranno Brahms e Schumann che sono due autori importantissimi del periodo romantico. La prima esecuzione di questa sonata è stata fatta a Vienna con lo stesso autore e il violinista Joseph Ersmerzberger. La cosa interessante è che questa sonata è nominata sonata della pioggia, o reggonsonate. La prima esecuzione di questa sonata. La prima esecuzione di questa sonata è stata fatta a Vienna con la pioggia, o reggonsonate. La prima esecuzione di questa sonata è stata fatta a Vienna con la pioggia, o reggonsonate. La prima esecuzione di questa sonata è stata fatta a Vienna con la pioggia, o reggonsonate. La prima esecuzione di questa sonata è stata fatta a Vienna con la pioggia, o reggonsonate. La prima esecuzione di questa sonata è stata fatta a Vienna con la pioggia, o reggonsonate. La prima esecuzione di questa sonata è stata fatta a Vienna con la pioggia, o reggonsonate. Grazie.